con Papa Francesco, tanti temi affrontati. Sì, è stata una bella conversazione. Io vorrei sottolineare quello che ho detto io, della mia diocesi, che così lo sentono anche quelli della diocesi. Sottolineato gli aspetti positivi che ci sono nella diocesi di Volterra. Innanzitutto la realtà dell'azione cattolica, che ha una capacità di incontrare i ragazzi, far conoscere Gesù e educarli alla fede. In una realtà molto grande, come la diocesi di Volterra territorialmente, con tante parrocchie piccole disperse nelle diverse strade, quindi questa capacità educativa forte. E l'altro aspetto molto positivo che va valorizzato è quello del clero, un clero bravo, unito e molto laborioso. Queste sono le cose che ho comunicato al Santo Padre, che ritengo aspetti molto positivi della diocesi di Volterra. Grazie. Grazie. Grazie.